appassionati e collezionisti bentornati in un nuovo video unboxing diciamocelo pure ormai abbiamo preso gusto e continuiamo il nostro servizio di unboxing per farvi vedere tutte le varie novità del momento e quindi non si poteva che portare un set molto molto interessante con possibilità di firmate veramente veramente assurde il box non è altro che il team set barcellona 2022-2023 elegite bene un autografo o rally card per box garantito mamma mia ma prima di andare ad aprirci box e scoprire la checklist attraverso il mio sito vi invito a iscrivervi al canale perché tutto completamente gratuito e attivare la campanellina per essere avvisati nelle prossime uscite di video che spero possano essere veramente veramente molto interessanti perché non saranno soltanto unboxing ma torneranno in versione più interessante o almeno spero le mie gom pills e naturalmente anche su instagram gom punto test dove potete sentirvi liberi di scrivermi qualsiasi cosa inerente al mondo del lobby ma che dire andiamo a divertirci e rieccoci quindi sul mio sito www.gomtaste.com per una velocissima occhiata alla checklist ricordo quindi che il box è piccolo è composto da sei pacchetti da cinque carte ciascuno ma attenzione perché un autografo o relic card è garantita e gli autografi ragazzi non so se rendete rendono abbastanza perché c'è addirittura la carta autografata di ronaldo ma non solo ma andiamo quindi velocemente a scorrere la checklist composta da la base composte da 24 carte con le rucchi di pavlo torre fabio bianco e naki penia poi si passa alle hour city che sono ben 10 giocatori di tutto rispetto con le 11 card blaugrana che scopriremo durante l'unboxing o almeno spero le gold drip carte veramente molto interessanti anche per i nomi ronaldo ronaldino messi e pedri gavi e gli autografi questa ragazzi si c'è anche l'autografo di messi per non parlare di ovviamente di altri giocatori sempre sempre molto interessanti ma messi si sa è un po l'obiettivo di tutti le gold drip autografati quindi anche qua abbiamo messi abbiamo ronaldo come visto nella prima foto le blaugrana dual autograf quindi sono solo otto ma sono carte con doppio autografo e potete ben leggere lionel messi e ronaldo insieme nella solita carta la troveremo ma vedremo e poi l'erix le classici pezzi di maglia sono 12 non so voi ma a me prudono le mani quindi andiamo subito direttamente aprirci questo bellissimo box finalmente ci siamo ragazzi ecco il nostro piccolo box piccolo è composto da sei pacchetti da cinque carte ciascuno e attenzione o un autografo o una rally card si trova all'interno di questo box inoltre abbiamo anche la possibilità quindi di trovare una aesi parallel e una parallela numerata che andiamo a divertirci insieme faccio è fatto è aperto andiamo insieme a sperare di trovare ovviamente card autografata quindi questo è il pin set lo lascio qua un po come monito uno due tre quattro cinque sei pacchetti come regola quindi partirei dal primo ma se riusciamo a dirlo con le mani si 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 possono aprire tranquillamente con le mani e la prima carta non può essere che del allenatore xavi poi abbiamo una hour city parciora e stanis pedrola una rookie card poi abbiamo attenzione un'ignesta blaugrana molto bella come card andiamo a vedere insieme prima andiamo a vedere cosa sono altre carte in aki pena quindi altro rookie card e christensen e nella sua versione base quindi questa è la versione base sicuramente pulita come immagine sono molto pulite ma veramente veramente fatte bene la qualità è notevole molto molto bella pulita precisa e accattivante quindi sicuramente tutte le carte verranno slivate e protette al meglio ma andiamo a vedere subito il secondo pacchetto insieme cercando di non fare danni questo pacchetto si apre con difficoltà quindi meglio utilizzare le forbici ecco fatto abbiamo aperto cerco di non spoilerare sotto ma il suo probabilmente sì ecco attenzione un'altra rookie card di fabio blanco barcellona quindi our city un'altra our city di pedri dembele base ancora un'altra base o potrebbe essere autonofo no alonso base questa potrebbe essere già una parallela ragazzi questa è una parallela chi è secondo voi andiamo a vedere un po' no attenzione fabio blanco questa è una relic card quindi questa è il cavolo bella spessa e anche questa è la relic card quindi all'interno del box non ho trovato autografo ma una relic card di fabio blanco con la player one record relic scusate quindi questa è una maglia indossata da fabio blanco rookie card ma direi che poteva andare meglio poteva andare peggio comunque è una patch di una rookie card andiamo avanti abbiamo già spoilerato quindi il kit ma l'obiettivo è cercare di vedere la parallela sperando di riuscire almeno lì a trovare qualche cosa di interessante a livello piccato di nomi abbiamo pedri de jong gavi tauio e bellissima la gold rip di gavi questa ragazzi è veramente veramente molto bella dietro abbiamo il debutto quindi il 29 agosto 2021 con a 74 presenze e tre gol veramente molto belle queste gold rip continuiamo quindi il nostro bel spacchettamento mettiamo da parte le nostre card che abbiamo trovato e ci ricordiamo che abbiamo ancora da trovare la IC e anche la parallela numerata si ritorna quindi con our city quindi la raffinia sergio busquette all'audio che si e ci siamo questa è la parallela di christensen no questa è la IC allora parola parola 37 su 99 di christensen quindi diciamo che box un po' deludente a livello di nomi ma vabbè carta divertente carta divertente quindi niente da fare non abbiamo trovato ancora né Messi né Ronaldo che erano gli obiettivi principali di questo pacchetto abbiamo già sparato una rookie card che è Pablo Torre Akomach Cesc Fabregas con blaugrana la gold rip di Lionel Messi Messi l'abbiamo trovato e dietro c'è la IC molto probabilmente la IC di raffinia molto bella questa questa è una più spessa no è uguale molto bella anche questa comunque bellissimo effetto IC veramente veramente divertente ma ragazzi com'è bella la gold rip di Lionel Messi e quindi ultimo pacchetto che non dovrebbe contenere troppe sorprese quindi la gold rip di Ronaldo non me la potrei che meritare dai copriamo subito quindi Kunde Peña Pablo Torre Akomach e per finire un Robert Lewandowski un commento a caldo su queste carte veramente veramente semplici ma molto molto carine l'unboxing non è andato proprio alla grande abbiamo trovato come fare la numerata la Christensen a 99 quindi 37 su 99 la Icy di Raffinia seppur molto molto carina come card e le due gold rip una di Gavi e l'altra ovviamente di Messi molto belle queste per finire poi con la hit che è la patch match war di Fabio Blanco Blaugrana una lucky card una patch match war direi card da tenere in posizione e sperare che questo ragazzo possa diventare veramente forte con questa carta io quindi vi saluto anzi vi chiedo se per caso avete trovato qualche case hit migliore della mia e ovviamente cosa ne pensate di questa collezione noi non c'è sta che risentirci per il prossimo unboxing alla prossima ciao